Il tribunale russo ha deciso. La studentessa Maria Moscaleva potrà stare con la sua famiglia. Il suo disegno fatto a scuola contro la guerra aveva suscitato forti polemiche, fino alla condanna del padre, a due anni di carcere con l'accusa di aver screditato l'esercito russo. L'uomo e la figlia hanno ripetutamente criticato l'invasione russa dell'Ucraina sia su internet che a scuola, richiamando l'attenzione sull'uccisione anche di civili. All'inizio delle indagini l'adolescente era stata mandata in una struttura riabilitativa. I funzionari avevano anche chiesto al tribunale di privare definitivamente la coppia dei loro diritti di genitori. Ora la causa è stata ritirata definitivamente, sostenendo che non sussistono condizioni preoccupanti circa l'educazione di Maria in famiglia.